Buona la prima a Praia Mare per il Carnevale. La domenica 31 è partita la lunga settimana goliardica Calabra con un bilancio nettamente positivo. Come primo bilancio siamo partiti benissimo. La gente ha risposto alla nostra organizzazione di questo Carnevale del 2016 e diciamo che questo è il risultato. Purtroppo oggi ci siamo dovuti un po' rifugiare nella palestra in quanto fuori il tempo non ci permette di svolgere la manifestazione per come era stata programmata. Stiamo avendo una grande risposta soprattutto dai cittadini praiesi che con felicità hanno accompagnato questa sera i loro figli. E' solo un'anteprima del Carnevale in quanto i carri oltre una decina sfileranno per le strade del paese a partire da domenica. Ma la soddisfazione più grande è quella che anche altri comuni vicini contribuiscono alla buona riuscita del Carnevale organizzato in questa cittadina. Alla manifestazione un folto numero di bambini in maschera arrivati anche dai paesi vicini che hanno affollato prima Piazza Italia e poi il parasport della città. I bambini hanno partecipato perché il nostro Carnevale è dedicato soprattutto a loro per portare avanti una tradizione. Soddisfazione tra la gente e tra i rappresentanti delle istituzioni per aver riportato il Carnevale a Praia dopo tanti anni di vuoto. Io sono un ex animatore turistico e sono andato in vari Carnevale, a Viareggio, in Sicilia, Cireale, me li sono fatti quasi tutti. E quindi ritornare al Carnevale a Praia era importante e ce l'abbiamo fatta.